Non ci vuole coraggio per ricevere un premio, ma ci vuole tanto amore. E soprattutto io questo premio lo dedico a tutte le donne, vittime di mafia, di criminalità organizzata e vittime di violenza di genere. Lo dedico a tutte le donne che soffrono e che tengono la testa alta e la schiena dritta. Da Chiara a Farazzetto, donna, coraggio, per essere rimasta a Niscesi, il paese dove il padre e il fratello sono stati uccisi dalla mafia, alla biologa che per prima ha isolato il coronavirus, Maria Rosaria Capobianchi. L'edizione 2021 del premio Semplicemente Donna ha portato sul palco di Castiglion Fiorentino le storie delle donne che sono riuscite ad incidere con il loro percorso di vita sul rispetto e il raggiungimento della parità di genere. Il cambiamento è iniziato da molti anni fa, ora è maturo. Il fatto però che si debba ribadire che la donna è importante, che la donna merita, che la donna deve superare le barriere, è un indizio che ancora c'è da lavorare. Premiate anche l'atleta paraolimpica Nicola Orlando, la manager Aretina Diva Moriani e la giovane afghana delegata dell'organismo olimpico Samira Asghari. Ci siamo accorti che dopo il 9 settembre, quando il governo talebano ha oscurato tutti i canali di comunicazione con l'esterno, quindi non si sa più nulla di quello che succede alle donne afghane, era necessario, era importante riaccendere questo messaggio, riaccendere questa comunicazione, riaccendere questa necessità di richiesta di aiuto da parte della comunità internazionale, da parte dell'opinione pubblica verso una situazione che abbiamo quasi dimenticato. quindi abbiamo voluto dare voce a quelle donne che in questo momento non hanno voce. Tra le storie più toccanti, salite sul palco, quella di Maria Antonietta Rositani, la donna bruciata dal marito. Questo premio, proprio come ho detto nel momento in cui lo ha risato, lo dedico a tutte le donne che perché più fragili di me, sicuramente più sfortunate, non hanno avuto il coraggio di ribellarsi e chiedere aiuto a loro, ai loro figli, ai loro padri, alle loro amiche, alle loro sorelle. Io dedico questo premio, ma in contemporanea lo voglio dedicare anche a tutte quelle donne che sono rinchiuse in casa e il Covid purtroppo le amplificate, che sono succube dei loro aguzzini. A loro dico, lottate, uscite da casa, ribellatevi e denunciate, provate a vivere la vita, che è un dono di Dio e solo lui ce la può togliere. Donne, denunciamo.